Se volete acquistare giochi scontati a basso costo andate su InstatGaming, link in descrizione Ciao a tutti ragazzi, qui è Johnny e benvenuti in questo nuovo video Siamo su questa nuova serie, siamo su Sky Hill Allora, è un gioco praticamente che noi siamo al centesimo piano di sto palazzo Se non erro perché ho provato a fare una partita per vedere se non laggava e tutto Se voglio iniziare una nuova partita, si, mettiamo normale Sopravvive Ok, allora, praticamente noi siamo in cima a questo palazzo e il nostro scopo è scendere sotto Sono eseguocizita per un paio di giorni in viaggio d'affari Era un viaggio breve Quindi devo non passare qualche giorno con stile E noi entriamo dentro a questo palazzo I suoi chiami sono proprio come avevo ordinato La nostra stanza mia è una suite pararamica, eccellente e un sistema di difesa biologica di ultima generazione Ok, sì, siamo al centesimo piano Perfetto Che ci spiego un po' tutto com'è Che succede? La guerra è così vicina I confederati sono disperati Insomma, le cose erano umila prima di peggiori, immagino Non avevo idea di quanto male Non so leggere stamattina Ecco la nuova Europa Siete pregati di restare calmi e al riparo Accendete i vostri sistemi casalinghi di difesa biologica E se non avete uno Procedete verso il più vicino rifugio Antirisicologico Donne e bambini Gentili ospiti Siete pregati di non lasciare Beh, qui scoppia la guerra biologica Ok, perfetto Allora Cosa sono i livelli di attivazione? Poi per me ne sparsi Ho il tasto del sound mouse E tutti gli oggetti interattivi Verranno evidenziati Eccetera Ok, ci siamo Allora, praticamente Questa qui è la nostra suite Che viviamo il tavolo Del crafting Però non possiamo fare niente Come potete vedere È un gioco gestionale Di qua possiamo dormire E mentre qui possiamo prendere la scienza Però Allora, come funziona la fame? Per un punto fame ogni volta che Passare da una stanza all'altra Se hai 0 punti fame Per dare 2 punti salute Ah, buono Ok Iniziamo la nostra avventura Andiamo a sinistra Dobbiamo controllare bene tutto Senza perdere niente Ok, qui non c'è nulla Andiamo di qua Come vedete abbiamo perso 2 punti fame di qua Qui c'è Ok, abbiamo trovato un tubo E il tubo lo possiamo usare come arma Quindi direi di mettercelo di qua Perfetto E fa danno 2.2 fino al 9.2 Quindi è molto buono Io direi di velocizzare anche un po' Perché se non è troppo lento viene Perfetto Allora Siamo al 98esimo piano Abbiamo trovato un pannocchia Marcia Qui abbiamo trovato la carta magnetica VIP Adesso vi faccio vedere un attimo un po' Qui l'interfaccia Come vedete qui abbiamo il nostro personaggio livello 1 La salute, la fame Qui possiamo craftare tutte le cose Armi Cibo Medikit L'altro Tipo scotch Ingranaggi E poi qui abbiamo la sala VIP Con questa carta In cui possiamo aumentare il letto La porta Le barricate Tutto Il crafting E tutto Bene Tipo no Se adesso mangiamo qui Ci dice che abbiamo 50% di possibilità Di allevamento E di perdita di tutti salute Quindi quello lì però Non ci conviene mangiarlo Ok Come funzioni combattimenti Due tipi di attacco Uno Semplicemente cliccare sul nemico Sul rikano Ho passato la modalità avanzata E cliccando sul tasto destro Direi di passare la modalità avanzata Quindi Allora qui abbiamo tre modalità d'attacco 50% Li facciamo 4.4 Fino a 18.4 Di danni 90% 1.54 6.4 80% 2.2 Fino a 9.2 Direi di iniziare con 80% Non gli facciamo danni Sopro Sempre 80% Abbiamo Sbagliato Poi di brutto Proviamo 90% Ok Abbiamo distrutto un po' di danni Vai di nuovo Sull'80 Perfetto L'abbiamo distrutto Qui possiamo Anche raccogliere Se c'ha Delle cose Il cadavere Ma Abbiamo visto che non c'ha proprio nulla Ok Possiamo scendere piano Di sotto Qui abbiamo una scala L'ascensore Direi di andare di qua Ok Abbiamo di nuovo Un altro nemico Perfetto Clicchiamo Allora Facciamo l'80% Abbiamo tolto il 2.4 Cavolo proprio Errore Turno extra Perfetto Magari ci va di culo 4 Allora Proviamo il 90% Errore Madonna Che sfiga Colpo critica C'ha fatto pure Allora Allora Devono avere Molto culo A quanto pare Perché 5% Eh Valla Che sfido Oh ma C'è Ci sta facendo il culo Cazzo Eh Abbiamo trovato un cazzo L'uomo marcio Se ne faccio il nuovo marcio Abbiamo trovato anche un asse Allora L'alcol ci dà 10 di fame E anche il latte Qui vediamo se possiamo farci Un medikit Possiamo fare le bende Produci Perfetto E ci dà 10 di salute Io direi di metterle Non si sa mai Ok Siamo arrivati a 59 Su 100 Io non ho trovato niente Immobili qua Vivano Possiamo cliccare O c'è qualcosa qui che Lampeggia Ok Nuovo messaggio Ed egli disse Ci incontreremo al 91 Paradiso E tu Rinascerei Nella poverezza originale Quindi lui ci dice che Dobbiamo arrivare Nel 91 Piano Allora Abbiamo 36 Di fame Direi ancora di dare un'occhiata Quindi l'ebbala Abbiamo trovato il nostro Ah stronzo Eh madonna mia 90% L'abbiamo schivato proprio Ok che culo Colpiscilo Dai Un cazzo 20% Ok l'abbiamo 16 Perfetto allora Guardiamo di qua Eh ma la va che sfiga Facciamo sempre l'80 Cioè siamo sicuri Mi hanno già fatto il colpo critico Sto pezzo 9.6 6.9 Cazzo Minchia Buono 8.6 Noi abbiamo 38 Dai Guarda te Un uovo Un uovo Borsa Qui Un cazzo Allora Continuiamo un attimo L'inventario Abbiamo due assi di legno Due assi di legno Cosa possiamo fare? Nulla Bene Allora ci vi da fame 6.6 Questo Quell'altro Abbiamo un ramo Però il ramo mettere anche Non si sa mai Però non toglie niente Vabbè Cosa abbiamo fatto? Ho spiegato qualcosa? Ok Siamo arrivati a 39 Attenzione Qui Possiamo salire di livello Allora Possiamo aumentare i punti forze Dimettere un punto a tutto per ora Per farlo un po' equilibriato Che non si sa mai Allora Qui c'è Un'impronta Di una mano E cassetti vuoti Bene Direi di tornare su Andiamo A 90 Eh siamo arrivati a 98 Ok Sali Perfetto Ok Allora qui Come potete vedere Se noi riposiamo Ci toglie la fame Se riposiamo 4 ore E siamo arrivati Un cazzo proprio Norma 10 ore Proprio Un cavolo Allora Direi di mangiare L'uovo Latte Che c'è da salute Proviamo questo E c'è da 50% Di possibilità Di toglie di cosa Non ci conviene Ok Allora Direi di Scendere Sotto Fino Aspettate Che prendiamo L'ascensore Che forse è meglio Andiamo qui Al 96esimo piano Perfetto E possiamo scendere Ok Qui come possiamo vedere Per i prefugi C'è bisogno di ingranaggi Ok Abbiamo riparato Solo che l'ascensore È spaccato Abbiamo riparato La corretta Soltanto 9.5 3.5 Merda Lì ci ha fatto 3.6 di danno 3.4 Dobbiamo di nuovo Questo qui Dai Che non ti avevo Uno scuto Ok Perfetto Scatola L'erba Insalata Burro Ok Questo qui Volendo lo posso buttare Si lo posso buttare Buono Ok Ottimo Abbiamo trovato Una moneta Allora Con la moneta Adesso Direi di Però la salute Non ci abbiamo Medikit Possiamo fare qualcosa No Siamo proprio Messi male Ma le macchinette Di quale libero Sono rotte Ok Qui c'è un tipo Vediamo prima Allora vediamo un po' Cosa vuole Eh là Pensavo di essere L'unico Supervisore Non ho bisogno I miei amici Mi serve una cosa Un falcione Lui ti darà un medikit Noi non abbiamo Niente Del genere Purtroppo Quindi Direi che Possiamo andarcene Sperando di non trovare Alti mossi Perché sennò Ce l'abbiamo proprio Dritto Dove non batte il sole Pezzo di legno E burro Allora direi Di vedere se Possiamo fare Qualcosa Ma A quanto pare Proprio No Perché Prima a mangiare E a mangiare E non ci dà un cazzo Ok Magari allora Noi torniamo sopra Direi di andare all'ascensore 96esimo piano E di riposarci un po' Perché sennò Qui Non andiamo proprio Da nessuna parte Direi via a dormire Perfetto Dormi Per recuperare almeno Un po' di fame Allora Se noi rimaniamo Così Ci conviene 23 Sì Ok Qualcuno Ho cominciato a gridare Non appena sono andato a letto Tribù di grid Disperato Di una donna Che veniva fatta a pezzi Facevano eco Nelle Scalinate silenziose Non ha soffetto Morto Ciò nonostante Non sono riuscito A addormentarmi Per ore Ok Bene Io direi che Per questo Primo episodio Di Skyhill È tutto Noi ci vediamo Nel secondo episodio Che registro Subito adesso Perché mi sta piacendo Un casino Quindi Lasciate un like Commentate Iscrivetevi anche Sulla pagina Instagram Che trovate in descrizione Per comprare Giochi a basso costo Trovate il link Di Instant Gaming Sotto In descrizione Qui da Genni è tutto Bella